Il nostro corso di laurea è illustrato dalla presenza di un nucleo di docenti con importanti curriculum e provenienti dal mondo delle professioni. Perché studierete la produzione, la distribuzione e il consumo di informazioni fondamentali per la professione dei comunicatori di oggi. Le aziende oggi hanno sempre più bisogno di professionisti della comunicazione, gli strumenti per intuire e percepire le richieste di comunicazione preparati all'Insubria. L'Insubria pone lo studente al centro del percorso fornendogli una formazione di valore e favorendo il suo ingresso nel mondo del lavoro. Oggi come oggi abbiamo bisogno di persone che sappiano comunicare al meglio, semplificare il messaggio e quindi condividere contenuti di valore. L'Insubria è la botte piccola dal vino buono che ti può insegnare proprio questo. Il nostro consiglio? Lasciati ispirare, segui il tuo istinto e progetta il tuo futuro. E ricorda, non sarai mai un numero di matricola, ma una persona. Ciao!